chi sei tu chi sei perché sei dentro casa mia perché non ti piace stare fuori c'è la vita fuori da casa mia c'è un intero giardino voi non potete immaginare quanto questo esserino sia minuscolo è piccolissimo c'è guardate la mia mano in confronto è minuscolo piccolissimo chi sei come ti chiami da dove vieni qual è il tuo scopo ma soprattutto che cazzo vuoi da me so io cosa voglio da te voglio l'affitto non è possibile è pieno di bestioline casa mia va bene sono la bestiolina più grande il che è giusto perché è casa mia ma tu stai qui pretendi ah ma lui si mangia i moscerini i moscerini si mangia i ragnetti pulisce lui paga così l'affitto pulendo vero ma voi lo sapete quanto mangia questo esserino non mangia niente ho la casa piena di insetti perché non fa il suo lavoro e poi è normale che resta così piccolo ah ah eh sì e lo so che mi senti pensi che sto parlando chissà che pensi chissà cosa pensi prodigi prodigi della tecnica moderna che mi permettono di inquadrarlo con così tanta precisione che bello e bellissimo ne ho una miriade ogni volta una miriade abitano negli anfratti vivono nei cunicoli di casa mia piccoli bastardi ma uno che ci può fare non ci puoi fare niente questi se gli sfiori muoiono sono fragilissimi completamente fragilissimi non so neanche se vede il mio dito oh lo tocco oh che fai fuggi ti 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 tatatata tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Grazie.